Ma sì, intanto non è una novità che possano accadere queste cose, cioè che una donna amatura possa avere dei rapporti con un giovinetto. E' accaduto molte volte e questo non significa che si debba perdonare, perché la cosa indubbiamente suscita sempre scandalo. Però ciò che bisogna sottolineare è che la donna non può essere accusata di violenza, perché tutti sanno che un ragazzo, un uomo o anche un vecchio per congiungersi con una signora più o meno giovane necessita di avere una erezione. E quindi se tu hai una erezione significa che partecipi magari anche entusiasticamente all'operazione. Allora se c'è una partecipazione, una complicità non ci può essere violenza. Mentre se è un uomo che è violento, una ragazzina, lì può succedere di tutto. Bisogna analizzare la cosa con più cura. In questo caso si vede che il ragazzo tutto sommato ci stava e magari ci stava anche volentieri. Questo non significa che la signora non vada sottoposta a un'indagine per vedere se c'era qualcos'altro. Ma non può essere condannata per il rapporto che ha avuto, perché è stato un rapporto consensuale. Ecco Vittorio ti faccio vedere lo sguardo.